io ho pensato ai citi qua, è stato bello perché ho pensato ai citi, la signora ha detto no, la signora del bar ha detto no, io voglio la Magnani davanti, io voglio che proprio dal mio scorcio dove faccio il caffè io voglio il giro e vedo la Magnani, va bene signora, allora cambiamo l'assetto della cosa, dico io va bene i monicelli lì, si si a me basta che c'è la Magnani davanti, dico ok, quindi la Magnani da là e passa da là e quindi lì c'erano i citi e lì vado lì meglio perché così Monicelli guarda verso l'esterno, guarda verso dove ha girato, esatto, fondamentalmente, mentre Pasolini guarda loro